Niente veleni e aria pulita è questo il risponso finale del monitoraggio eseguito da Arpa Lombardia dopo il rogo di mercoledì 7 settembre che ha distrutto la nitrolchimica di San Giuliano Milanese. Già dai primi rilevamenti eseguiti il giorno dell'incendio, la situazione dell'aria era risultata essere non pericolosa, ma fino ai risultati degli accertamenti in laboratorio, la preoccupazione che dalla combustione delle sostanze chimiche all'interno della fabbrica potessero essersi liberati nell'aria anche degli agenti tossici pericolosi per la salute era comunque rimasta alta. Ora invece arriva la conferma, dai numeri si vede infatti come l'inquinamento da diossine e furani sia ben al di sotto delle linee guida europee dell'OMS in caso di incendio. Allo stesso modo anche i valori degli idrocarburi policiclici aromatici detti IPA, che sono dei contaminanti che fuoriescono dalla combustione, sono risultati inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale sia in fase gas che in fase particolato. Questi dunque i risultati relativi ai campioni prelevati da Arpa tra l'8 e il 9 di settembre in due punti vicino alla fabbrica andata a fuoco. Il primo era stato posizionato a sesto ulteriano e il secondo in via Milano, ad una distanza di circa 4 chilometri dalla nitroalchimica. Risultati che hanno confermato le rilevazioni fatte il giorno stesso, sia durante la fase acuta dell'incendio, sia quando i vigili del fuoco erano riusciti a spegnere le fiamme. L'area interessata invece, che è stata posta sotto sequestro, è stata anche messa in sicurezza da un'azienda specializzata alla bonifica, che ha reso la zona impermeabile per impedire che sostanze tossiche potessero finire nelle fognature.